Buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati per la rassegna stampa di Fano TV, Occhio ai giornali, l'appuntamento quotidiano con la carta stampata, però prima procediamo con ordine il santo del giorno e poi le previsioni del tempo, oggi è Sant'Ettore Martire, sabato 20 giugno, il sole è sorto alle 5.25 e tramonterà alle 20.54, previsioni del tempo, partiamo dalla nostra centralina che ci rimanda a una temperatura di 18 gradi e poco più, quindi temperature leggermente più basse sotto ai 20 gradi rispetto ai giorni scorsi, per effetto sicuramente della pioggia abbondante e copiosa che è caduta questa notte, vediamo il cielo come si presenta senza grosse nuvole, nubi sicuramente più all'orizzonte, però vedete il cielo in questo momento è terzo e limpido, il tempo che si presenta per questo sabato è questo cielo inizialmente nuvoloso con diminuzione della nuvolosità nel pomeriggio, iniziale dai settori settentrionali, però le precipitazioni in mattinata più baschi e rovesci, residui nelle zone meridionali della regione, nel pomeriggio rovesci e temporanei spassi però più nelle zone interne e anche domani, domenica dovrebbe essere più o meno questo lo schema, sereno o poco nuvoloso per addensamenti cumuliformi, però lungo il crinale appenninico, anche le precipitazioni sono presenti sui rilievi, le temperature sono stazionari, vediamo come inizia la settimana, previsioni per lunedì, il cielo è poco nuvoloso, poco transito di nubi e precipitazioni assenti, le tendenze per i giorni successivi saranno queste, la prima parte della settimana sarà caratterizzata da tempo stabile con possibile peggioramento a metà della settimana a seguito di un nuovo miglioramento e quindi avremo un inizio di settimana bello, è una metà della settimana che è in evoluzione, vedremo come andrà, sapete benissimo che le previsioni oltre i tre giorni sono da prendere un po' con le mollette. Veniamo ai giornali, partiamo dal Corriere Adriatico di Pesaro, in centro pagina Parco a Mariani, poi il Porto Galleggiante, Ricci ripaga il sostegno elettorale con la Presidenza ma intanto pensa a un progetto per Focara, si parla del San Bartolo che verrà, il Parco del San Bartolo, poi la mostra Nuovo Cinema con Armocida e Francesca Neri, si apre la Kermesse rinnovata negli spazi e nei contenuti, Europa Street Food, il meglio del cibo per strada, oggi è la seconda settimana, sempre a Pesaro, quindi se volete assaporare i sapori da tutto il mondo, ne avete l'occasione. La pagina di Fano del Corriere Adriatico, l'arrivo di Del Rio al Festival Passaggi, Cambiare l'Italia, il suo libro più difficile del previsto, il Ministro Del Rio presenta il suo saggio e racconta gli ostacoli del di Castero alle infrastrutture e naturalmente gli hanno chiesto subito qual era la cosa più difficile, se fare il Sindaco o il Ministro, sicuramente lui ha detto il Ministro. Vedete anche qui nella foto piccola a colloquio prima del suo intervento con Tagliolini, il Presidente della provincia e anche Del Noci c'era a Latere. Un Passaggi Festival che si è contraddistinto ieri anche per la presenza di altri politici come Bertinotti. Allora, dalle memorie alle vittime, alla fan, alla mafia, al calcio totale. Questo è il programma di quest'oggi. E poi Minardi fa promesse post-elettorali su scogliere e liste sanitarie di attesa che vanno sicuramente abbattute, questo è il suo impegno per i prossimi tempi a venire. L'impegno è per trovare altri 7 milioni per la costa e aumentare in ospedale personale e macchinari. Continuiamo nelle pagine del Corriere Adriatico, però quelle che riguardano sempre Fano, Aset, c'è un tesoretto da 1,5 milioni, riveste riserve sull'uso come salvadanaio, ma la gestione dell'azienda è migliorata. In attesa, poi in testa di pagina su fondo anticrisi e taglio delle tariffe intesa. Firmato un protocollo tra CGL, CISLUIL e Comune per tutelare le fasce deboli, appello alla Regione per il welfare. Andiamo con il messaggero peso, la seconda testata che guardiamo come sempre, Regione né Comi né Marcolini, questo è il post-elettorale, si va verso la Giunta, è raggiunta l'intesa con i sostenitori della lista di Ceriscioli, entrerà Teresa Lambertucci. Pronta la nuova Giunta di Ceriscioli con Bora, Casini, Casetti, Pieroni e Marconi. Questi i nomi vedete anche qui in testa di pagina il Ministro del Rio a Fano. San Bartolo, San Bartolo che non vive, il Parco San Bartolo, un momento d'oro, vandali nell'area picnic di Santa Maria nella foto notizia. Gioca un euro e ne porta a casa oltre 30 mila. La vincita è stata realizzata in una ricevitoria lungo la strada che da Cagli porta a Pergola. Fortunato il giocatore, il meteo della pagina del messaggero, ti dice che il tempo è variabile fino a domenica. Continuiamo sulle pagine del messaggero e che focalizza un po' quello che è congelo, quello che è lo stato dell'arte sulla nuova compagine regionale. Vedete qui tutti gli attori. Giunta c'è Accorda nel PD, Marcolini cede il passo a Teresa Lambertucci, è la terza donna per i popolari Marconi, Pieroni per Uniti, Mastro Vincenzo, Presidente e Busilacchi, Capogruppo. Questa è la squadra. E poi Economia, difenderemo la cantieristica e l'impegno di Squizzi alle mole. Siamo ad Ancona. Ancora dalle pagine del messaggero, vi dicevo, il parco San Bartolo che vive momenti brutti, poco edificanti, vandali nel parco, basta, ora si chiude. Il presidente Balducci, ennesimo gesto di irresponsabili, proporrò di murare il forno o blindarlo in qualche modo. divelti i legni, la staccionata, la cartellonistica, insomma, non hanno risparmiato nulla questi vandali. E poi la morte del noto operatore gastronomico di Pesaro, Luca Ugolini, migliora la sua compagna, rimasta ferita, non in modo grave, durante lo schianto fatale all'arco vicino al parco Miralfiore. Però la dinamica è ancora tutta da capire. Bisogna capire come mai è andato ad impattare così violentemente alla fine della discesa del cavalcaferrovia contro l'arco. Sono ancora da chiarire queste fasi. E poi continuiamo sulle pagine sempre del messaggero. Cambiamo argomento, nessuna offerta per le spiagge libere, si parla del salvataggio, quindi le spiagge libere sono senza salvataggio perché il bando è andato deserto, troppo bassa la cifra, gli operatori. Una carenza da risolvere al più presto, sì perché, insomma, le spiagge libere necessitano di salvataggio perché sono molto frequentate e il pericolo, insomma, di brutti incidenti è sempre dietro l'angolo. Oggi e domani tornano le navette estive dal Viale Trieste a sottomonto e corse ogni mezz'ora. Questo è per evitare di prendere multe. L'argomento anche sanità è stato molto presente nella campagna elettorale regionale, nuovo ospedale, si riparla di questa possibilità. La politica deve sciogliere il nodo. Venturi, Presidente dell'Associazione Marche Nord, ho fiducia in Ceriscioli a tutti i poteri per risolvere il caso. Grave responsabilità nell'occhiello non è possibile che non si trovi l'intesa su uno spazio di pochi chilometri. La pagina del messaggero che riguarda Fano, tributi, niente aumenti e importi ratezzati e in futuro c'è anche lo sconto. Comune e sindacati sottoscrivono il protocollo d'intesa sul bilancio che sarà discusso a breve in Consiglio. E poi il Vescovo Trasarti incontra questa mattina alle 9.30 al Centro Pastorale in Via Roma a Fano, un incontro tra associazioni e entità politiche ed economiche della città per rilanciare e rafforzare il tema della responsabilità. Anche qui di spalle Fano Grossetto, l'argomento toccato anche da Del Rio durante il suo intervento e quindi insomma anche questa è una questione in caldo e poi i bikers del volontariato si radunano e aiutano anche il Centro Itaca. Cambiamo testata, andiamo al resto del Carlino, l'ultima che vi facciamo vedere per oggi. Iniziamo da una bella storia, possiamo dire, un malato di SLA, Ivan Cottini, che decide di interrompere la terapia per avere un figlio. Padre lo sarà, ha voluto esserlo a tutti i costi, la bimba è la mia salvezza, Cotini, malato di SLA, ha deciso di sospendere le cure per poterci riuscire. Vedete nella foto la sua compagna e la presentazione del suo libro che racconta la sua storia, racconterò una volta di più come è cambiata la sua vita da modello a malato di SLA. Ma questo non è stata una cosa che non ha avuto un prezzo perché le conseguenze sono queste. Ho quasi perso, per via della sospensione della terapia, l'uso di una mano. La malattia peggiora in evoluzione e per me però avere un figlio sarà come guarire. Gli esami di maturità non sono soltanto la prima volta per gli studenti, ma sono anche la prima volta per un istituto. È il liceo musicale Marconi e un vero esame diventa un concerto, sì perché qui c'è teoria, armonia e composizione e poi la prova pratica. Vedete la seconda prova degli studenti era proprio la prova allo strumento musicale che hanno scelto. Luca che è un compositore, dice, è lui che si presenta con una chitarra in mano dopo aver scritto il tema di Mary Poppins e quindi primi giorni anche per gli istituti. E poi un giorno in pretura, una vicenda che si è risolta bene, definisce capra la centralista e il giudice lo assolve e dice è un'offesa blanda. Prosciolto Massimo Pagnoni, meglio noto come Rosa della Ceca, il tutto era nato su Facebook e dopo tre minuti in cui non era riuscito a parlare con un operatore, su Facebook ha postato una lettera aperta quasi al sindaco Massimo Seri dicendo di cambiare i centralisti perché una capra capisce di più. Ma evidentemente Sgarbi ha fatto storia e quindi il giudice ha definito capra un'offesa blanda. Per cui è finito in un nulla di fatto per Rosa della Ceca. La pagina di Fano del resto del Carlino ritorna la questione corte sì o corte no. Uniamoci a corte, siamo pronti a tutto, cancellare gli spettacoli, fa discutere soprattutto i commercianti. Ancora dalle pagine del resto del Carlino, ultimo addio a Marilu, l'ultimo saluto alla Marchesa Montezemolo e poi c'è Marina dei Cesari a centropagina. C'è tempo altri due anni per la manutenzione, il Comune ci crede e allunga i termini di fine lavoro. Ultima pagina che guardiamo per il resto del Carlino che riguarda Fano, il Welfare ha convocato a una cabina di regia per coordinare lo stato sociale. L'assessore Bagnesi dice poste le basi per progettare una città diversa. Bene, questo era l'ultimo articolo che vi proponevamo per questa rassegna stampa di oggi sabato. Grazie per essere stati in nostra compagnia. La rassegna stampa torna lunedì mattina alle 7.30 puntuali e questa sera naturalmente l'informazione con Occhio alla Notizia alle 20.30. Grazie e buon sabato a tutti voi.